Nel quarto capitolo del rapporto annuale di quest'anno, del 2020, vi è una descrizione dell'evoluzione del sistema produttivo italiano nell'ultimo decennio. L'obiettivo è quello di fotografare lo stato di salute del nostro sistema produttivo alla vigilia della profonda contrazione dell'attività economica che è stata determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid-19. In questa infografica, i quattro punti riassuntivi che vedete, presentano una sintesi delle principali conclusioni delle analisi svolte in questo capitolo del rapporto annuale. Per quanto riguarda il primo punto, possiamo dire che la crisi del debito sovrano che ha interessato l'Italia tra il 2011 e il 2013 ha determinato un ampio processo di selezione delle imprese. La successiva fase di ripresa ciclica, che è culminata nel 2017, tuttavia non ha consentito un recupero pieno delle caratteristiche precedenti. Nel complesso, nel 2017, il nostro sistema produttivo risultava infatti ancora sottodimensionato rispetto ai livelli del 2011. In particolare, si contavano circa 80.000 imprese in meno rispetto a quelle che operavano nel 2011, 125.000 addetti in meno e una riduzione del valore aggiunto complessivo di quasi il 2%. Questo ridimensionamento ha colpito soprattutto il settore delle costruzioni, mentre per quanto riguarda l'industria abbiamo avuto una riduzione del numero di imprese e anche di addetti, ma tra il 2011 e il 2017 un incremento del valore aggiunto di circa 3,3%. Quindi nel settore dell'industria c'è stato di fatto un incremento di produttività del lavoro. Per quanto riguarda i servizi, invece, gli anni della ripresa hanno determinato una dinamica di ampliamento sia di base produttiva che di occupazione. In particolare, però, nei settori di servizio alla persona, che strutturalmente presentano una crescita della produttività per addetto inferiore rispetto a quella degli altri comparti e soprattutto una minor capacità di trasmissione degli impulsi all'intero sistema. Anche dal punto di vista dimensionale, in questi anni si sono verificati dei cambiamenti, in particolare si è rafforzato il ruolo delle imprese di media e grande dimensione a discapito delle imprese più piccole, che sono quelle che ovviamente hanno risentito di più degli anni della crisi. Tuttavia, la questione dimensionale rimane centrale, in quanto il nostro sistema produttivo rimane comunque caratterizzato da una preponderante presenza di microimprese. Questo tipo di mutamenti strutturali, inoltre, tende a modificare la rete di relazioni commerciali e produttive tra imprese. Questo è un aspetto particolarmente importante in un sistema, quello italiano, che è caratterizzato da un'ampia frammentazione. Gli aspetti dimensionali e relazionali sono infatti fondamentali per determinare la cosiddetta rilevanza sistemica delle imprese, ovvero il contributo che ciascuna impresa può fornire all'andamento complessivo dell'economia. Questo contributo sarà tanto più significativo quanto maggiore è l'influenza che le singole imprese esercitano sul resto dell'attività produttiva, ovvero sia quanto più ampio è il peso che ciascuna impresa ha in termini di occupazione e di produzione e anche quanto più intensi sono i legami che l'impresa stessa ha con il resto del sistema. Questi elementi economici e relazionali sono stati sintetizzati nel rapporto da un indice di rilevanza sistemica e sulla base dei valori di questo indicatore abbiamo verificato che tra il 2011 e il 2017 il sistema dell'impresa ha mostrato nel complesso un aumento medio di rilevanza sistemica. Cioè in altri termini rispetto all'inizio della recessione, cioè rispetto al 2011, nel 2017 il nostro sistema produttivo appariva sicuramente altrettanto più frammentato ma comunque anche più interconnesso. Questo processo di selezione e di ricomposizione ha inoltre inciso da un lato sulle decisioni strategiche delle imprese in termini di finanziamento e dall'altro sulla loro situazione di solidità economico-finanziaria. La performance, in particolare la performance economico-finanziaria, è riassunta anche qui da un indicatore sintetico sulla base di cui valori le imprese possono essere classificate in imprese in salute, imprese fragili o imprese a rischio. E nel capitolo del rapporto si evidenzia proprio come nel periodo di ripresa ciclica si sia determinata una progressiva riduzione della quota delle imprese a rischio e anche allo stesso tempo un incremento consistente delle imprese sane. Tuttavia va però osservato come le imprese fragili, alla fine del periodo di osservazione risultino ancora il gruppo con la maggiore incidenza. Questi risultati sottendono anche cambiamenti nelle strategie di finanziamento delle imprese. Sotto questo aspetto i dati provenienti dall'indagine realizzata nell'ambito del primo censimento permanente delle imprese ha permesso di effettuare delle analisi sulle scelte di finanziamento delle imprese con almeno tre addetti. Nel 2018 la fonte di finanziamento più diffusa era l'autofinanziamento, a cui facevano ricorso quasi i tre quarti delle imprese, in particolare le imprese del settore dei servizi, seguito dal credito bancario a medio-lungo termine e di quello a breve termine. Questa forte incidenza dell'autofinanziamento rende però le imprese più a rischio nel momento in cui una crisi esogena, quale per esempio quella determinata dal blocco delle attività produttive che è seguito al diffondersi della pandemia, determini appunto una forte crisi di liquidità delle imprese stesse. Nel capitolo, quindi, attraverso un esercizio di simulazione, abbiamo valutato quante e quali siano state le unità produttive che più probabilmente sarebbero state colpite da una crisi di liquidità e in particolare abbiamo stimato l'impatto del lockdown nel periodo marzo-aprile 2020 sui bilanci di circa 800.000 società di capitali attraverso una valutazione della dinamica del cash flow che è calcolata come differenza tra regali e costi. I risultati di questo esercizio ci mostrano come a maggio, quindi all'inizio della fase della graduale riapertura dell'attività, circa un terzo delle società di capitale attive in Italia sarebbe risultato illiquido oppure in condizioni di liquidità precaria. Di questo terzo, circa il 16,5% risultavano già illiquide alla fine del 2019, un ulteriore 13,3% lo sarebbe diventato invece a seguito dell'insorgete della crisi e infine per il circa 6% di imprese il deterioramento delle condizioni di liquidità determinata dal Covid avrebbe permesso un'operatività inferiore ai 6 mesi. Per concludere, quindi, possiamo dire che le imprese italiane nel loro insieme, prima della crisi determinata dalla pandemia, presentavano rispetto al 2011 delle caratteristiche di maggior solidità economico-finanziaria e anche di maggiore interconnessione con il resto del sistema. Tuttavia, permangono elementi di criticità, quali per esempio una dimensione media di impresa ancora troppo limitata e una eccessiva dipendenza dall'autofinanziamento, quest'ultimo è un elemento di elevata vulnerabilità in occasione appunto della crisi di liquidità che è stata determinata dagli effetti economici della pandemia. Grazie per l'attenzione.